La maternità in tutte le sue sfaccettature, un'esperienza che viene raccontata anche con un pizzico di ironia da Michele Albertini, autrice del libro Mamma Avventura, un testo che attraversa stati d'animo, gioie, momenti di quotidianità, la gestione del lavoro, della famiglia, ma anche le difficoltà riscontrate. Uno spunto di riflessione per genitori, futuri genitori e non solo. La maternità, la quotidianità, tutto quello che noi ci ritroviamo a vivere giorno dopo giorno, nella buona e nella cattiva sorte direi. Diciamo che il mestiere del genitore è vero che non si insegna ma si impara nella quotidianità. Assolutamente sì, poi fin dal primo giorno in cui ho scoperto di essere mamma non ero, sicuramente non mi sentivo la persona adatta per diventarlo, eppure ti dico che comunque giorno dopo giorno vai imparando, vai facendo esperienze e migliori. La presentazione del libro, avvenuta nella sala Borsellino del Palazzo di Città San Cataldo, rientra nel calendario degli eventi del Comune San Cataldese in occasione del periodo di festa. La seconda edizione della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale, Tutto un altro Natale San Cataldese, prosegue anche nei prossimi giorni. Nella casetta di Babbo Natale che è allestita, insieme alla slitta di Babbo Natale, diverse associazioni che interverranno sempre per alietare i bambini con fattorie, e ancora tombole al profumo di libri nella nostra biblioteca comunale, è insomma un calendario abbastanza nutrito. Si punta sui giovani e su proprio questo connubio tra cultura e gioventù, sempre però alla riscoperta delle tradizioni, così come abbiamo voluto anche a tal riguardo posizionare i mercatini di Natale in Via Roma, che è proprio il centro storico rivisitato e rivisto, tra le due chiese, Chiesa Madre e Chiesa di San Giuseppe, dove c'è la presentazione pure dei presepi e di una tela molto importante, abbiamo voluto proprio creare questo circuito virtuoso. Come ha detto proprio lei, il tema è la cultura e la riscoperta delle tradizioni.